Treno troppo stretto e troppo stracco, stracca troppi storpi e stroppia troppo. La vicenda è successa stamane su un treno regionale tra Brindisi e Taranto. Assolto in Assisi l'assassino dell'assessore di Frasassi in missione segreta a Sassari. Il giovane è stato ritenuto innocente, stop alle indagini. Il Papa pesa e pesta il Pepe a Pisa stamane durante l'ultima visita nella città toscana. 66 assassini sono andati ad Assisi, tutti e 66 assassinandosi. È successo ieri notte, il paese è ancora sotto shock. 33 trentini sono andati a Trento, tutti e 33 trotterellandosi. Si pensa a un flash mob. Passiamo ora a un caso di cronaca nera. La povera vittima, una signora, secondo le prime indagini della procura, la signora lavava una pezza. A quel punto un pazzo con un pezzo di pizza chiede alla pazza se ne vuole un pezzo. La pazza rifiuta. Il pazzo prende la pazza, la pezza e la pizza e li butta nel pozzo di San Patrizio. Ho chiuso con la chiesa, do le dimissioni, queste le parole dell'arcivescovo di Costantinopoli che proprio ieri in un'intervista ha dichiarato ai suoi fedeli vi siete sempre chiesti se io mi volessi disarcivescovi costantinopolizzare. La risposta è disarcivescovi costantinopolizzare. E se voi disarcivescovi costantinopolizzare mi... A TG Zero, Giri Abre, vai! A TG Zero, le polemiche, vai! E buonasera e ben trovati da TG Zero, si riaprono le polemiche. A TG Zero, le polemiche, vai in piedi, vai, vai in piedi. A TG Zero, si riaprono, vai! A TG Zero, le polemiche, si riaprono le polemiche. E buonasera e ben trovati, lontano dai prigiozizi, vai! Vai lontano dai prigiozizi, vai! Lontano da tutto quello che ci fa stare male, vai, vai, vai! Un premio, il figlio d'Apollo, faccia una palla di pelle di pollo e tutti i persi vienano a capire la palla di pelle di pollo. E ha passato un premio, vai! Figlio d'Apollo, a TG Zero, si riaprono le polemiche. A TG Zero, le polemiche, vai! A TG Zero, si riaprono le polemiche. A TG Zero, le polemiche, si riaprono! Queste le ultime notizie, noi ci risentiamo per il prossimo aggiornamento da TG Zero è tutto. Grazie, una buona serata. Arrivederci, grazie. Arrivederci! Grazie, grazie mille, grazie mille, grazie mille.